Don Pino Puglisi, sacerdote palermitano ucciso dalla mafia nel 1993 perché tentava di sottrarre i ragazzi e i fanciulli del suo oratore all'influenza delle cosche. La vita di Don Puglisi sarà il primo appuntamento con cui si inaugura il cinema di prossimità qui nella cappella di Maria Consolatrice in Via Petitti con lettura di testi e proiezioni di docufilm alle ore 16, sabato 30 settembre, qua in cappella.